Ciao amiche e ciao amici, come gestire al meglio un abbandono per evitare di soffrire e per ottimizzare le possibilità di riconquistare la persona che ci ha abbandonato? Intanto dobbiamo renderci conto che a nessuno fa piacere essere lasciati e quindi quando capita bisogna essere pronti. Bisogna però imparare ad allenarsi a vivere gli abbandoni un po' prima di essere abbandonati perché se non ci si allena prima poi ci si trova nella situazione che non si riesce a gestire. Invece bisognerebbe, diciamo così, imparare a viversi gli abbandoni, a capire quali sono le dinamiche che governano le situazioni di abbandono in modo tale da trovarsi preparati. Se questo non si è fatto si può comunque gestire una sorta di pronto soccorso emotivo, abbandonico, diciamo così, per strutturarsi. La cosa fondamentale è non lasciarsi prendere, diciamo così, dalle emozioni perché nel momento in cui uno viene abbandonato normalmente smette di ragionare e lascia che la sua parte emotiva prenda sopravvento. Cosa significa che la parte emotiva prenda sopravvento? Non significa viversi delle emozioni positive ma significa andare ad amplificarsi già la sofferenza già vissuta dall'abbandono perché normalmente uno inizia a fare dei ragionamenti che diventano poi ragionamenti quasi ossessivi. Uno inizia a dire no, ecco adesso non troverò più la persona giusta, ecco adesso resterò solo o sola per tutta la vita. Questa persona qua era l'unica che poteva darmi la felicità, non esistono altre che possono darmi la stessa felicità. E poi viene fuori tutta una serie di cose per cui la persona inizia a dire ah mi manca tantissimo, non so come fare ma ogni volta che ci penso questa persona mi dava sicurezza, parlavamo, mi capiva e adesso mi sento solo, mi sento sola, non mi sento capito, non mi sento capita, quando c'era lui, quando c'era lei vivevo una situazione positiva, mi sentivo amato, mi sentiva amata. Insomma viene fuori tutta questa serie di ragionamenti che in realtà sono dei pensieri spazzatura, non fanno altro che ad andare a girare sempre di più il dito nella piaga perché la persona anziché staccarsi, anziché sganciarsi dalla polpetta avvelenata emotiva ci entra sempre più dentro, un po' come dire tende a sprofondare sempre di più dentro le sabbie mobili. Quindi questi pensieri vanno eliminati. Ovviamente non è che uno può non eliminare i pensieri, può eliminare i pensieri, però può modificarli. Ci sono ad esempio delle tecniche molto utili della PNL per modificare i pensieri. Tanto sull'abbandono ci sareste andati, su questa situazione ci sareste andati, quindi tanto vale che vi mettete seduti, tranquilli, in una posizione comoda, chiudete gli occhi e deliberatamente pensate tutte le cose più nefaste che potreste pensare, però lo fate in una situazione deliberata e conclamata e però iniziate diciamo a introdurre, mentre pensate queste cose, qualche antidoto. Gli antidoti sono, ma e se non fosse proprio così? E ponetevi delle domande, sempre in quelle situazioni, come potrei fare per ribaltare la situazione e per stare bene? Perché altrimenti cosa succede? Che i pensieri viaggiano in modo inconsapevole, uno non se ne rende neanche conto e non mette quindi nessun antidoto. L'antidoto è iniziare a mettere altri pensieri, iniziare a mettere altri semi, intanto la situazione emotiva la state vivendo e quindi sfruttiamo questa situazione emotiva perché il concetto di fondo è che quando noi viviamo una forte emozione, diciamo così, diventiamo molto più suggestionabili, sia nel bene sia nel male. Quindi diventiamo suggestionabili sia quando ci diciamo che siamo delle merde, che non troveremo più la persona giusta, che qua, là, su, giù. Però se in questa situazione di tensione emotiva noi mettiamo un antidoto, allora quest'antidoto attecchierà. E allora iniziamo a farci delle domande costruttive proprio mentre ci mettiamo lì, pensiamo a questo qua che ci ha abbandonato, a questo qua che ci ha abbandonato, ci viviamo stoppato con questa emozione, piangiamo, facciamo quello che vogliamo, però in quella situazione iniziamo a farci delle domande che vanno in un'altra direzione. Queste domande sono ma cosa farei, cosa posso fare per cambiare questa situazione, cosa posso fare per stare bene, cosa posso fare? E mi darò delle risposte e le risposte che mi darò in quella condizione diventeranno dei semi che atteccheranno. Se farete così tutti i giorni otterrete due risultati. Uno che vi sfogate perché mandate avanti questi pensieri almeno deliberatamente, dedicate mezz'ora, diciamo, a vivervi l'abbandono. E in quella mezz'ora lì però, quando l'emozione è forte, emettete l'antidoto positivo, il pensiero positivo. Vedrete che allora sarà un semi che atteccherà perché non verrà piantato nella ghiaia, non verrà piantato in superficie, ma entrerà dentro le profondità dell'inconscio, entrerà dentro la profondità della parte emotiva e darà i suoi frutti. In questo modo otterrete due risultati. Il primo risultato è quello che vedrete che starete meglio molto rapidamente. Il secondo risultato è che, diciamo, nel momento in cui vi staccate da questa emozione, vedrete la situazione in modo molto più lucido e avrete molte, molte più opportunità di mettere in atto con successo le strategie di seduzione per riconquistare la persona. Perché avrete la mente libera, diventerete una sorta di ragioniere della seduzione, per non dire ingegnere, perché comunque il titolo di ingegnere della seduzione non lo avrete ancora, fin tanto che non metterete in atto la conquista. Però il ragioniere della seduzione sì. E quindi vi sentirete veramente bene. E vedrete che l'abbandono verrà vissuto diversamente. Piano piano diventerà uno strumento, uno strumento per affinare le vostre capacità di comunicazione, sia con voi stessi, sia con gli altri, che è veramente quello che volete, che una persona dovrebbe volere. Però la cosa importante è veramente dedicare del tempo a vivervi fortemente l'emozione e in quel momento, in quella sessione, mettere gli antidoti, mettere i pensieri che vanno a seminare dubbio su queste condizioni negative, mettere nuovi pensieri che invece vanno in una nuova direzione positiva. Se farete questo, riuscirete a venire fuori, a gestire al meglio l'abbandono, ottimizzando, evitando di soffrire ed ottimizzando le possibilità di successo. Per questo video è tutto. Se vi iscrivete al canale, avrete la possibilità di fare una domanda nei commenti, nei post, e riceverete un video di risposta. Inoltre, se questo video ti è piaciuto, condividilo con tutti i tuoi amici nei social, Whatsapp, Facebook, Twitter, quant'altro. Ciao a tutti!